Siamo con l'avvocato Floro Bisello, segretario nazionale di Adusbef, associazione dei consumatori sul cui tavolo arrivano diversi casi di phishing, di truffe online legate ai sistemi bancari. Qual è la portata del fenomeno anche nella nostra realtà locale? Il fenomeno è sempre più in crescita. Vi sono vari tipi di truffe. Il primo è il phishing. Il phishing come avviene? Tramite l'invio di un email da parte dell'hacker al consumatore e praticamente un avviso in cui afferma che vi è un'intrusione sul conto corrente del consumatore stesso oppure addirittura dei tentativi di intrusione e pregano il consumatore di cliccare sul link. Naturalmente l'email che arriva con lo stesso logo della banca è perfettamente uguale a tutte le pagine delle banche. Che succede? Il consumatore una volta che ha cliccato sul link viene poi contattato, cioè si apre un format, un modulo che praticamente spiega come compilarlo. Quindi il consumatore va a compilare il modulo in tutte le parti mancanti con i propri dati personali sensibili. Dopodiché invia il modulo, viene contattato dal truffatore, il cui praticamente poi dirà di dare i codici di accesso. Una volta che c'è stato questo, il truffatore avrà una strada facilitata per poter entrare sul conto corrente del truffato e poter compiere in suo luogo tutte le operazioni. Capitati i casi in cui sono entrati nel conto corrente dell'assistito e hanno fatto diversi bonifici in varie banche italiane. Poi un altro fenomeno è il misching, praticamente, che avviene la stessa tipologia ma tramite sms. Ed è ancora più insidioso questo. Quindi una volta che arriva l'SMS d'allerta, anche inadvertitamente, sovra pensiero, il cliente va a cliccare sopra il link e la stessa cosa viene contattato poi da un operatore truffaldino che logicamente li farà accedere poi, che avrà accesso facile sempre ai conti del truffato. Quindi queste truffe stanno aumentando sempre di più e le figure che vengono purtroppo colpite vanno dal ragazzo giovane fino all'imprenditore, fino alle persone di grande cultura, agli anziani. C'è però anche un esito spesso risolutivo, si riesce comunque a recuperare il maltoldo. Sì, certo. Secondo me è meglio fare un ricorso all'arbitro bancario finanziario, anziché al tribunale, perché è un ricorso che costa molto di meno e molto veloce come tempistica. Nel giro quasi, anche meno di un anno, otto, nove mesi, si raggiunge il risultato. La banca deve provare che il consumatore sia stato negligente e non il consumatore deve provare che non è stato negligente praticamente. Quindi in questi casi, insomma, spesso e volentieri hanno esito positivo i risultati.